La riforma giudiziaria che fino a questo momento non ha avuto gli effetti sperati? No, da quello che abbiamo potuto verificare quasi tutti, dalle audizioni anche degli altri che abbiamo avuto tutto l'interesse di ascoltare, abbiamo potuto capire che quasi tutti i tribunali che sono stati chiusi avevano sede all'interno di palazzi pubblici, quindi in realtà gli affitti sono nati per via degli accorpamenti e non sicuramente, quindi i costi delle strutture non certamente sono stati disdetti i contratti di locazione per via degli affitti delle sedi. Ci siamo resi conto che tutto questo è andato a danno dei cittadini, dello stesso personale amministrativo che con grande difficoltà raggiunge le sedi accorpanti e ha determinato anche un blocco dei tribunali che hanno dovuto ricevere le pratiche, tutto il lavoro che è pervenuto dai tribunali chiusi anche perché si trattava comunque di realtà che avevano un carico di lavoro importante. A Roma avete presentato anche un ricco dossier. È un lavoro fatto prevalentemente dal Consiglio dell'Ordere degli Avvocati e dal suo Presidente io ci ho messo tutta una parte che appunto attiene soprattutto alla qualità dei processi penali che vengono fatti perché insomma questo è un territorio dove si fanno processi per rapine, gioiellerie, istituti postali, uffici postali, cioè fatti che sono oggettivamente collegati a criminalità organizzata, prospicente, che trova come ho detto anche quando abbiamo fatto il processo adriatico, trova poi nella criminalità endogena, trova una saldatura positiva e una sinergia negativa. Diciamo che anche un modo questo, ecco, si sottovaluta a volte un altro aspetto e cioè che questo determina anche un incremento positivo inevitabile per la criminalità locale perché la criminalità organizzata diventa, come posso dire, una sorta di università del crimine a cui partecipa quella locale che casomai ha bisogno di incrementarsi, svilupparsi, adeguarsi e quindi può creare nel territorio un motivo di preoccupazione ulteriore.